Estra è nell'elite delle 9 società italiane che superano i 500.000 clienti nella distribuzione del metano in un panorama di 700 microimprese. Nel settore Estra occupa il 2,2% del mercato italiano del gas. Estra porta la fibra nelle signe. Con un investimento totale di 3,3 milioni di euro, Estracom realizzerà una rete di 90 km per portare la connessione veloce a oltre 11.000 abitazioni di signa e la strassigna. Estra trattiene solo il 6,6% delle risorse economiche che genera. Su più di un miliardo di valore economico prodotto, quasi 940.000 euro sono distribuiti a comunità, istituzioni, soci, clienti e fornitori. Soluzioni green, Estra promuove gli scooter elettrici Ascol negli store di Prato, Sesto Fiorentino, Scandici e Agliana. Un progetto di mobilità sostenibile con ruggi motori per l'acquisto a condizioni molto favorevoli.